Erano circa le 12 quando nella zona di Bibione Pineda, lungo il litorale del chiosco blu, una sessantenne di nazionalità tedesca si è sentita male mentre faceva il bagno. Prontamente è stata soccorsa dal personale di salvataggio, poi affidata alle cure del personale medico infermieristico del punto di primo intervento di Bibione, coordinato dalla centrale SUEM 118 di Venezia. Si è levato in volo anche l'elisoccorso. Le pratiche di rianimazione cardiopolmonare sono durate a lungo ma per la donna non c'è stato nulla da fare. È la prima vittima per annegamento dall'inizio dell'anno. La sessantenne era arrivata da poco nella località per festeggiare, come moltissimi tedeschi, le vacanze del Corpus Domini. Alloggiava poco distante dal luogo in cui si è sentita male.